Sì, lo speravamo anche noi, purtroppo è arrivata questa sconfitta, non ce l'aspettavamo per la verità, anche se incontravamo una buonissima squadra come la Fiorentina, noi ci abbiamo messo del nostro, però adesso dobbiamo rimborcare le maniche e andare a Bari a fare il risultato a tutti i costi. Non voleva entrare la parte, ci vediamo oggi in tutti i modi, anche Sorrentino? Sì, siamo partiti benissimo, i primi dieci minuti li abbiamo messi lì, poi dopo il gol abbiamo avuto un'ottima reazione, è stato bravo Borrucca a fare due interventi a altissimi livelli, però ci gira tutto sotto, speriamo che, come ho detto prima, di archiviare questa partita e di martedì già pensare a Bari, che è uno scontrosa bellezza importantissimo. Ecco, quindi lo champagne che ritorna alla vittoria lo teniamo per il domenico prossimo. Sicuramente, speriamo di stappare dalla bottiglia stavolta però. Grazie mille, Gennaro. Prego. Ciao. Ciao.